Ciao a tutti, ben arrivati al nostro canale Davide Calti TV, il canale dove andiamo a fare delle recensioni ma anche delle reazioni musicali. Insomma, la tecnologia di Fata Padrona e anche la musica. Questo è un canale dove realmente ci emozioniamo anche con gli oggetti. Infatti oggi andiamo a presentare, grazie a Doge che mi ha accontentato. Avevo chiesto questo telefono, l'avevo aspettato per molto tempo e sono riuscito ad accontentarmi con questo fantastico telefono. Parliamo del Doge S100 Pro, un telefono con tanta potenza di calcolo, un telefono sì grande, ha un grande spessore, però parliamo di caratteristiche che adesso vi vado a elencare, ma soprattutto potenza di calcolo, ben costruito, cioè parliamo di un prodotto veramente all'avanguardia. Partiamo con un display da 6 pollici e 58, quindi un bel telefono grande, anche di belle dimensioni, ma non si ferma solo lì perché abbiamo anche un'ottima risoluzione di schermo che è una 1080x2408 pixel, LCD IPS. Insomma, 6 pollici e 58 con questa grandezza riusciamo a fare davvero tanto, ma noi ci siamo riusciti a fare tanto perché l'abbiamo stressato veramente. Ma la cosa bella di questo telefono, a parte la qualità del display, che è veramente ottimo, una cosa che io mi sono innamorato e per questo l'ho voluto tanto, era la batteria da 22 mAh. Immaginatevi, in una batteria di così lunga durata si riesce a scaricare in circa 60 giorni in stand-by. Riusciremo a fare settimane di utilizzo, un normale utilizzo, ma io sono andato anche sotto stress, giocandoci, provandoci tanti giochi. Ho visto che, in poche parole, con i giochi è qualcosa di impressionante, non si riesce a riscaldare o a scaricarsi mai. Ho provato tanti giochi, come potete vedere, proprio adesso, insomma, dei giochi pesanti, dei giochi che, insomma, occupano molta, molta, molta memoria. Ma lui non si ferma dietro a niente, non si spaventa di nulla e continua a farci divertire. E questo anche grazie alla CPU che monta un 8-core, con 8-core, appunto, della Contex, processore grafico Mali-G57MC2 e 12 GB di RAM, incontolate dentro, immaginate, con uno storage di 256 GB espandibili, quindi una memoria infinita che questo telefono riesce a darvi. Ha tante, tante altre funzioni, che come potremo vedere, SOS di segnalazione, infrarossi, immaginate di poter utilizzare il telefono con l'infrarossi e riuscire a vedere con zero lux o se qualsiasi cosa vi circondi. Insomma, un telefono che credo che per l'utilizzo va bene per tutti. Io immagino darlo a un bambino, a un telefono del genere, non dirà mai papà aiutami, devo caricare il telefono. Uno perché non si scaricarà mai, ma due perché è indistruttibile, ovviamente. Vi ricordo anche il comparto fotografico di tre obiettivi da 16, 20 e 108 megapixel. Insomma, tutto, insomma, parliamo anche delle foto, foto qualità fantastica. Come potete vedere, insomma, abbiamo scattato delle foto, insomma, la qualità fa paura. Fa paura nel vero senso della parola, si riesce a vedere tutto con massimo dettaglio. Andate anche sul loro sito, su Doge, che non riesce mai a stupirci abbastanza e troverete una vasta gamma di prodotti veramente ben fatti. Grazie! Grazie! Grazie a tutti.